Favorevole? Sì. 2.3. Allora, Poverini. Favorevole. Cariello. Favorevole. Melilla. Scusi, Presidente. 2.3. Il 2.2. Il 2.2. Cambio il parere da favorevole in ritirato. Che vuol dire ritirato? Ritirato. Lo ritiriamo. L'emenda a me. Ah, quindi è ritirato. Lei lo ritira quindi al nome della Durante? Sì, lo ritiro. Ok. Allora, siamo al 2.3. Melilla. Contrario. Contrario. Siamo al 2.4. Polverini. Favorevole. Cariello. Favorevole. Melilla. Melilla. 2.4. Favorevole Melilla. Sì. Sì, d'accordo. Allora, il Governo. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore di maggioranza. D'accordo, grazie. Allora, cominciamo. Siamo al 2.1. I pareri sono contrari di Commissione e Governo. Il relatore Forza Italia, contrario. Si rimette all'aula 5 stelle ed è favorevole il relatore Sissella. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Quindi... Quindi... Allora, ci siamo? No. Chi è che non ha votato? Ruocco.